I tried so hard and got so far It doesn't even matter I had to fall to lose it all In the end, it doesn't even matter I tried so hard Meeting 2024 Roller Team, tantissime le novità Si parte da una gamma Fit, come viene chiamata per il brand toscano E poi la solita gamma, Zephyro però, totalmente rivisitata Con nuovi layout esterni grafici Ma soprattutto un facelift totale nella parte interna Partiamo per quella che è davvero la vera novità dell'anno Appunto la gamma Fit Select indica il cambio automatico 230 alla disposizione di questo camper compatto Come vedete la nuova disposizione del Fit sono più compatti Sia di lunghezza ma specialmente anche di larghezza E la sua particolarità è che è uno dei pochissimi compatti Ad avere il letto basculante Cambio automatico come abbiamo detto Da appunto la versione Select Qui abbiamo un Ford 165 cavalli Hanno tolto la versione 170 cavalli per le nuove emissioni Veramente un veicolo molto interessante nella disposizione Quello che poi ad oggi è uno dei veicoli compatti più richiesti Avendo il bagno doccia nella parte posteriore Un grandissimo armadio come vedete E anche la doccia separata Il letto basculante è l'unico e vero proprio letto Di questa versione nel 230 Ma la sua particolarità è che può scendere totalmente Fino alla fine e si può creare un doppio letto matrimoniale anteriore Veicolo con una qualità prezzo veramente azzeccata Intanto prima ancora di partire nell'altra visione Ci troviamo a Padova Quindi ringraziamo Roller Team per averci invitato Appunto a questo meeting con queste novità Partiamo nella parte laterale del veicolo Hanno cambiato anche la serigrafia esterna Hanno portato queste strisce rosse Con sempre finestre e sights a filo Qui siamo sul 281 Quindi sempre una versione fit Molto interessante il fatto che hanno tenuto il Ford sulle versioni fit Invece per quanto riguarda le classiche versioni Come sempre si possono scegliere Advance con Ford Oppure si può scegliere anche la versione Fiat Ducato Qui ci troviamo su un veicolo che è compatto Perché siamo 6,70 metri con letto gemello Uno dei veicoli che in realtà mancava molto Roller Team Prima ci tengo a precisare Che noi per anni abbiamo amato Vi ringrazio e vi ricordo di seguire il video Vi ringrazio e vi ricordo di iscrivervi al canale Se ancora non l'avete fatto Attivare la campanella e seguirci su tutti i nostri social Il veicolo 281 tendenzialmente sostituisce il 294 Che viene tolto dalla gamma Ahimè perché per me uno dei veicoli con layout più belli 6,47 metri viene leggermente allungato Ma stretto e portato con la versione più venduta Che è il letto gemello Bagno classico duplex che può girare la parete Come vedete classiche bagni che adesso funzionano Anche in questa versione su questo modello Non è presente il letto basculante Ma in realtà è possibile inserire il letto basculante In questa versione 281 è presente il cambio manuale Con infotainment Pioneer 9 pollici Però anche qui è possibile scegliere la versione Select Gli inserti, tutti questi giochi di contrasti di luce Rendono questo veicoli fit Veramente una gamma da venire a vedere nelle concessionarie Grazie a tutti Passiamo a quella che poi è la vera e propria novità dell'anno Nuovo Fiat Nuove versione Nuove gamme Viene tolta la serie Granduca nella famiglia Roller Team E viene migliorata e totalmente rivoluzionata la gamma Zephyro Hanno tolto la parete grigia Hanno inserito la parete bianca Anche il davanti nella gamma Advance era grigio Invece ora viene tutto portato sul bianco Sia nella versione Ford che nella versione Fiat Viene cambiato anche il posteriore Come vedete molto bella la parte posteriore di questo nuovo Roller Team È molto più, come dire, automotive Sempre una versione garage Poi rimangono tutti invariati Ma si va a vedere appunto la differenza di livrea Nella parte interna di questi Roller Team Sempre d'occhio portellone Vetrolesine interna, esterna, sotto chassis E anche all'interno appunto del veicolo 10 sono gli anni di garanzia Che ha questo veicolo Su totale della scocca esterna Andiamo a vedere quelle che sono i layout più interessanti 287 è una delle gambe più vendute 266 Cioè questo che vi sto riprendendo Il letto centrale nautico Che vi invito, se non l'avete ancora visto Di vedere uno dei nostri video presenti sul canale Novità frigo compressore Una novità che non avevamo ancora mai visto nei camper Presente invece nei vani ormai ovunque Il 287 è un letto gemello Larghezza invece 230 classica Colletto basculante Sempre infotainment 9 pollici Pioneer Skyroof che in questo momento è chiuso dalla prissettatura Nuovo Ducato Che internamente alla plancia rimane tendenzialmente molto simile Nuovi tessuti Ma specialmente nuova cucina La cucina del 287 si presentava La cucina si presentava a L Invece adesso si presenta a lineare un po' su tutta la gamma E il bagno Poi come sempre adesso nel 285 Questo è una versione 699 Il 287 era la versione su Ford Che adesso andiamo subito a vedere 285 6m e 399 287 su Ford Eccolo qua Avevo confuso i modelli Torniamo invece a quello che realmente è il 287 Con bagno e doccia divisa Bagno da una parte Hanno cambiato anche qui la parte del lavandino La parte del bagno La doccia tendenzialmente rimane invariata Hanno tolto il Granduca Ma hanno inserito tutti gli interni design Che ne comprendeva Quindi nella parte della parete doccia Ma anche la parte della testata letto 287 Letto basculante davanti Anche qui Cambio manuale infotainment 9 pollici Oscuranti Remis Hanno confermato la versione Del tutto incluso Quindi tendalino Pannello solare Che hanno portato Un pannello più performante Con una centralina più performante Rispetto a quelle delle versioni precedenti E quindi sicuramente Si è stato fatto Un ottimo lavoro Andiamo a vedere Un layout molto particolare Ci tengo a farvelo vedere Sul canale Perché penso che Non sia mai stato recensito in Italia Questo prodotto 282 Della Roller Team Con un garage Come vedete Non è abbassato Ma ora dentro Capirete il perché Quindi comunque Un garage Di solito in questa versione Molto tedesca Non era mai presente Nessun tipo di garage Invece Sul 282 Quindi un gemello basso E un bagno Alla fine Del veicolo Con doccia sulla mia destra Armadio Specchio Veramente Super interessante Il fatto che si può Poi dividere L'ambiente Anche qui Abbiamo un frigorifero A compressore Quindi su tutta la gamma Centralina Confermata Dove è possibile Col proprio smartphone Configurare All'interno del veicolo In stile domotico Una particolarità Del 282 È presente Il riscaldamento Ad Alde 3030 Andiamo a vedere Invece quello che è Un vero e proprio Top di gamma Quindi 295 Sempre su Ducato Nuovo 6,99 Letto traverso Anche qui Cucina L Adesso viene presentata Invece con una cucina Più lineare Una ampia di net Il vantaggio Dei 6,99 Letto traverso L'abbiamo visto Tante volte Diciamo che i primi Ducato nuovo Sono usciti tutti Con cambio manuale Poi ovviamente Ordinabili Sia nella versione Ford automatico Ma anche nella versione Fiat automatico Armadio Fregocompressore Fregocompressore Fa risparmiare Dello spazio Nella parte alta Dove si può inserire Il forno O semplicemente Utilizzarlo come spazio libero Andiamo a vedere Invece il bagno Che secondo me Rimane poi Sempre una delle versioni Migliori Il letto Sul 287 Sul 267 Sul 295 Sul 298 Quando scendete Non blocca La porta di uscita È stata anche ampliata La zona Della tv Grandi cambiamenti Anche per quello Che riguarda La meccanica Quindi come vedete Si sposa Veramente bene Sui veicoli van Si sposa bene Perché Questo nuovo frontale Questo nuovo Ducato È davvero Molto bello Le mie considerazioni Sono di una gamma Che sarà sempre Più forte negli anni Roller team Prima di vendite Ormai stabile Nel mercato italiano Il perché Riesce sempre A portare Molta innovazione Nello stesso tempo Anche un prodotto Appunto di qualità XPS Le pareti Quindi hanno Un sistema di costruzione Che è incastro Come vi dicevo Vetroresina interna E esterna Sotto pareti Anche il fatto Di avere Tutte queste nuove Novità Sicuramente Molto Incentivante Sia per noi Che per il cliente stesso Il 285 Che prima Vi ho detto 287 Esempio Un veicolo 6 metri 99 Che riesce Ad avere un ambiente Ampio All'interno E molto vivibile Questa è la gamma Roller team Quindi abbiamo Sicuramente Come vi dicevo Alla fiera di Parma Potete venire a vederla Con tantissime sorprese Sia nella parte estetica Questo è l'ultimo Che ci manca Che era Un cavallo di battaglia Nella vecchia versione Sarà ancora Un cavallo di battaglia Nella nuova versione Il 291 5 metri 99 Ma prima Si era presentato Su una larghezza Più ampia Perché era 2,30 Invece adesso Abbiamo la serie Fit Che è ridotta Con sempre Il letto basculante Vi faccio vedere Invece qui Il bagno Appunto A parete Che si gira Muovendo il push Laterale Hanno cambiato Anche la parte Dei lavandini Stessa E della rubinetteria Hanno fatto Veramente un ottimo lavoro Sempre tenuto Però il brand Argo Come vi dicevo Vi ringrazio Per aver Seguito Questo video Su queste novità Della Roller Team 2024 Quindi veramente Per la stagione 2025 Sono convintissimo Che la storia L'abbiamo già scritta E continueremo A farlo Grazie a tutti Da me Che sono Luca Del centro Caravans Barassi Ciao a tutti Ragazzi